Musica 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 Ciao I soliti gnocchi classe terza B C C C D D D Quintino sei la ASPI scena 1 alto 3 attenzione attenzione Oh ma che vuoi? è buona Rubare è un mestiere impegnativo Ci vuole gente seria Mica come voi Voi al massimo potete andare a lavorare Eh, lavorare Lavorare stanca Non la voglio, che? Eh, pasta e ceci Ma come si apre il suo barattolino? Ecco uno degli scassinatori Oh, tira, così Ah, vedi te C'è anche lì del ghiaccio Quattro involtini Voi lì della scaldatina Ma sai che non è male Una goccia d'olio in più ci vorrebbe Ah, a me non pare Sposta rotamente Senti un po' Dalle nostre parti, diciamo Femmina piccante, picchiera per amante Femmina cuciniera, picchiera per moglie Ragazzoli, ho paura che abbiamo Rotto la carnele dei gas Grazie a tutti 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 Grazie a tutti